Siamo qui con il signor Enrico Gismondi, siamo alla prima festa dell'ISC di Monte Urano e della Pallacanestro Monte Urano. È una festa che abbiamo organizzato per tutti i bambini delle due scuole principali di Monturano, quindi la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, mentre ieri siamo andati insieme ad alcuni giocatori della Sutor Basket Monte Granaro presso la scuola secondaria per consegnare dei biglietti omaggio per la gara di domenica prossima della Sutor. Dicevo questa è una festa organizzata insieme alla dottoressa Scatasta e insieme a tutte le insegnanti dell'istituto di comprensivo scolastico di Monte Urano. È un'iniziativa che è partita a settembre e soprattutto per sviluppare l'attività motoria nei bambini in età scolare. Questo progetto rientra nel progetto Easy Basket della Federazione Italiana Pallacanestro e siamo seguiti per questo da Peppe Fusco che è il responsabile regionale per il settore scuola. È una bellissima iniziativa perché ha portato i bambini ad aprirsi ad un bellissimo mondo che è quello dello sport. Il nostro obiettivo è proprio questo, non è importante che pratichino pallacanestro, l'importante è che vanno in palestra, che fanno attività motoria. Questo è molto importante, è molto importante per la loro crescita e ritengo che queste siano iniziative molto importanti per loro. Benissimo, la ringrazio. Grazie a voi.